Vi presento ora una penna di una poiana. La poiana è un piccolo pilotto, comunque ha una discreta apertura alare adulta all'incirca di un metro. Ha un fischio particolare, lo si sente da lontano ed è il richiamo della compagna o del compagno. Mutano, cioè le penne vengono cambiate e quindi capita di trovarla, come questa, dentro il bosco. Stop!